Ancora una notte di fuoco in Salento dove giorno dopo giorno aumenta il numero di episodi intimidatori. Sono due infatti gli incendi divampati ai danni di due autovetture nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre. Il primo episodio ha interessato un Opel Adam parcheggiata all'esterno di un'abitazione in via Vittorio Emanuele a Supersano. Erano le 2.25 circa quando le fiamme hanno avvolto il veicolo, danneggiandolo e destando la preoccupazione dei residenti della zona che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco. L'intervento dei caschi rossi giunti sul posto è stato provvidenziale per mettere in sicurezza la zona, evitando ulteriori danni. Il rogo infatti ha interessato anche un contatore del gas, il cancello dell'abitazione, la ringhiere e un palo ene la diacente. Intorno alle 4.30 poi a Caprarica di Lecce una Fiat Punto ha preso fuoco per cause ancora in corso di verifica. Sembra certa invece la natura dolosa del primo episodio riguardo il quale i carabinieri della locale stazione hanno già a disposizione le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. che avrebbero immortalato alcune persone nei pressi della vettura prima che l'incendio divampasse.